C'è anche la sigla Io denuncio subito questa cosa che mi hanno messo sullo sgabellino siccome siamo in radiovisione per essere alto come Fabiana che è altissima, mi sembra di essere sul cavallino del barbiere non so se hai mai provato questa sensazione no perché di solito ai maschietti tocca andare sul cavallino Beata lei, io non so proprio, non saprei come ci si sente Come va? Tutto bene? Tutto posto? Senti ti hanno già chiesto di Icona come mai questo titolo perché l'ho letto dovunque la prima domanda che ti fanno è come vai Icona? È giusto ma no è un'ottima domanda anzi va chiesta perché potrebbe sembrare autoreferenziale ma in realtà no, nasce quasi da una riflessione sociologica se vogliamo ovvero guardando molto essendo abituata a stare in mezzo ai social un po' come tutti sto notando che a mio avviso i social sono diventati quasi il palcoscenico delle persone proprio comuni di tutti noi ed è ormai diventato quasi un'esigenza dover parlare a un pubblico anche quando un pubblico vero e proprio uno non ce l'ha perché svolge una vita normalissima però l'importante è comunque ambire quei like quindi è come se tutti avessero questa grande esigenza di diventare proprio delle icone degli opinionisti, influencer insomma e quindi secondo me i social un po' hanno cambiato questo anche forse l'idea di quello che può significare diventare un'icona ecco questo mi suggerisce un'altra domanda scusate Fabiana mi è venuta così mentre parlavano pensavo chi è invece Claudia se c'è una differenza quando non è Baby K? se c'è magari non è così non sei l'unico ad avermi fatto questa domanda purtroppo sono fatta così sono così spontanea che non mi sono mai realmente costruito un personaggio che sono proprio così quindi a mio avviso non c'è molta differenza forse Claudia è un po' più pigra gli piace il piumone, la pioggia e qualche bel film come ti capisco quello al massimo però voglio dire tanto documento anche quello sui social quindi vedi non cambia molto vedi Kei so che tu piaci molto anche alle giovanissime alle bambine vero? è vero no ma anche ai 50 anni ma certo no questa cosa è bella sì che ho un pubblico un po' trasversale perché io ero convinta che attraverso la mia musica si poteva immedesimare il 20enne invece sto vedendo che ci sono sia i grandi i piccini quelli in mezzo insomma quindi io sono proprio molto contenta ti mandano qualche video dove ballano le sue canzoni sì sempre questa estate ero piena la mia casella postale ma anche whatsapp era pieno proprio di tutti questi video di bambini e bambine che ballavano o che si ipnotizzavano davanti al video tante cose belle sì sì facciamo intervenire anche il pubblico che ne diciamo certo ricordiamo il numero potete inviare anche voi dei messaggi per chiedere delle domande alla nostra baby k al 348 255 9999 ma io ne sentirei un'altra sì guarda caso perché no cosa ci ascoltiamo ma guarda proprio quella che abbiamo sentito che è stato un grande successo una colonna sonora dell'estate da 0 a 100 baby k con da 0 a 100 parliamo un attimino di questa canzone so che praticamente è tutta tua cioè l'hai studiata l'hai portata fino alla fine giusto? sì 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 avevo in realtà questo ritornello da un po' di tempo pensa mi sono detta quest'estate non esco lo tengo là per la prossima vediamo e non stavo per uscire con niente poi alla fine mi sono detta vabbè vediamo un po' facciamolo e Vodafone era interessato scusate forse non lo volevo dire allora mi sono detto guarda lo chiudo al volo e mi ricordo che era andato proprio da Rocco Rampino che è il produttore e sono andato da lui e gli ho detto senti facciamo un viaggio lo facciamo un po' mombaton che poi diventa salsa poi diventa cassa dritta facciamo questo viaggio qua gli ho detto cioè è troppo figo poi con degli elementi anche della dancehall così è tipo un viaggio così non è nemmeno troppo cliché capito c'è un all'orecchio un pochino più attento comunque c'è qualcosa di interessante e lui mi ha seguito ma io non mi aspettavo poi che lui facesse una base per me la produzione è stupenda quindi diciamo sì scritto in due giorni la base messa in piedi in pochissimo anche quello è nato molto velocemente è stato un lavoro molto viscerale però sì sì diciamo che ho proprio detto senti facciamo così così bla 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 punto e l'abbiamo fatto giusto senti visto che lo hai accennato parliamo un po' delle collaborazioni no? perché ci sono stati dei nomi importanti da Tiziano Ferro J-Axe come sono nate parlaci un po' di questo aspetto insomma del lavoro allora per quanto riguarda Icona e il disco? allora per quanto riguarda Icona avevo voglio ballare con te con Andres però quella la conoscono tutti era già vecchia tra virgolette di un anno quindi allora mi sono detto vabbè io ho molti brani no molti un bel po' di brani che comunque rientrano nella trap no? nel genere musicale così anche se spesso uno non lo pensa uno è abituato ai singoli pensa che io sono che mi occupo solo di quello sai dal momento in cui tu hai dei brani rap trap è bello poter collaborare comunque con dei rapper con Jamie Tize avevo già collaborato in passato lo conosco veramente da prima che lui iniziasse a rappare Vegas Jones è un amico allora ho chiesto a loro così proprio un po' in amicizia proprio per avere una cosa bella di dentro di questo tipo per quanto riguarda invece Ax l'ho conosciuto lo conosco e mi sono detta su questo brano certe cose volevo volevo qualcosa che le persone non si non si aspettavano e quindi mi sono detta sicuramente loro da noi si aspettano tutt'altra cosa vediamo se a lui è pronto gli va di comunque a zardare e collaborare e lui ha scritto in pochissimo ha registrato è stato molto generoso molto carino appunto e professionale con me però insomma così sono nati i featuring sono molto grata e contenta insomma che ci sia anche JX i nostri ascoltatori ci chiedono come mai hai abbandonato che poi non è vero comunque hai cambiato tanti generi dal rap sei passata un po' anche come è stata questa evoluzione stavo pensato hai addirittura aperto un po' la strada al mondo del rap femminile in Italia in qualche modo no sì allora sai il mio percorso comunque ha avuto delle tappe importanti dal momento in cui a parte allora la mia visione è un po' diversa la mia visione è questa a parte che quando rappavo già dicevano che io ero un rapper un po' troppo pop quindi partiamo già da questo presupposto che comunque è una vecchia polemica lo dico un po' a tutti i rapper appena uno fa una canzone di successo diventa pop sì 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 però ai ragazzi non gli rompono poi sì è vero sì sì capisco purtroppo c'è questa cosa qui e quindi no è molto semplice dal momento in cui comunque tu collabori con Tiziano Ferro non puoi pensare di non avere delle sfumature che comunque escano fuori da il concetto di fare un pezzo rap che è proprio strutturata anche nella solita maniera no cioè con lui comunque c'è stato chiaramente un'apertura ma i miei anche il mio stile si prestava perché ripeto sono sempre stata molto rapper però comunque un elemento di melodia c'è sempre stato comunque nelle mie nelle mie canzoni quindi andando avanti sono semplicemente diventata più creativa e questo io non lo vedo come una cosa negativa perché comunque mi sono sempre mantenuto all'interno di un genere che si chiama il genere urban quando la Sony mi ha lanciato e Tiziano Ferro appunto era il mio direttore artistico io sono stata lanciata come un'artista di musica urban e io questo faccio quindi l'urban spazia dall'R&B al rap al reggaeton e quindi ecco dove c'è il mio mondo insomma dove dove mi colloco quindi mi permetto di poter essere molto più creativa di molti altri rapper e penso che sia un bene che io abbia anche imparato a scrivere le canzoni le melodie arrangiare è un bel lavoro non è togliere anzi e far vedere quanto sai fare quindi per me la musica è libertà creatività e ben venga senti visto che l'abbiamo citata io a questo punto la sentirei voglio ballare anche se ha un po' di tempo come dicevi sì ma solo un anno dai voglio ballare con te Baby Kay su Radio Bruno Roma Bangkok Giussi Ferreri ma soprattutto Baby Kay con noi quest'oggi qui a Radio Bruno senti dopo un successo così stellare passami la gentile è stata una cosa monumentale ce la richiedono ancora oggi questa canzone si sente un po' la responsabilità perché si dice a volte è facile arrivare in vetta più difficile restarci dopo aver fatto quel successo hai sentito un po' il peso di oddio adesso riuscirò a fare un'altra cosa simile assolutamente sì assolutamente sai molti successi sono stati così difficili da replicare per molti cantanti ma nella storia della musica che spesso alla loro prima grande hit poi sono spariti perché quella roba ti può uccidere a parte gli scherzi perché vivi una tale pressione o comunque non si riesce a fare il bis quindi per me è stato molto importante poi appunto uscire con voglio ballare con te da 0 a 100 in qualche maniera grazie a Dio hai fatto il tris grazie a Dio hai fatto il tris non so come però anzi adesso sono in una nuova fase dove devi convincere le persone a capire che comunque non sei solo quella di quei tre singoli c'è anche altro per questo i dischi sono proprio così importanti perché sai tu non sei solo quei tre singoli tu hai tutta io faccio musica da 12 anni cioè il percorso è lungo poi se le radio diciamo mi hanno sostenuto un po' di più con questi singoli non dipende da me però c'è tanto dietro a proposito di questa cosa che hai appena detto arrivano tanti messaggi tanti complimenti eccetera c'era una ragazza adesso mi sfugge però il senso la domanda era questo come ci si prepara per arrivare a un risultato ah non lo so cioè non lo so perché purtroppo non dipende nemmeno solo da te l'unica cosa che io posso fare è cercare di scrivere una canzone più forte più figa possibile però sai dipende sempre poi dal teamwork tante cose tante canzoni belle poi magari non ce la fanno perché non ti passano in radio non c'è una promozione adeguata non lo so c'è molto lavoro comunque dietro la riuscita di un pezzo quindi per quanto mi riguarda non è che c'è una formula però tocca avere un guizzo però ci sono due appuntamenti a marzo segnati in rosso sul calendario il 28 e il 29 dove sarai? non vedo l'ora non vedo l'ora il 28 marzo sarò al Fabric di Milano e il giorno dopo il 29 marzo sarò a Largo Venue a Roma stiamo parlando di due eventi esclusivi molto particolari porterò il mio disco icona sul palco ma non solo anche comunque il mio repertorio che c'ha delle chicche dai carine dai possiamo dirlo comunque spero di appunto portare anche qualche sorpresa sul palco saranno due bei eventi quindi invito tutti quanti sì sì le prevendite sono già online sono tutti invitati voi ascoltatori siete tutti invitati senti ma mi pare che tu ti stia divertendo in radio non è che sei già passata dietro il microfono a parte le interviste ma io so che in passato hai fatto anche radio vero? sì allora ripeto prima te l'ho detto adesso ti conto gli ascoltatori io ero solo una pazza appassionatissima del genere hip hop non avevo assolutamente alcuna esperienza ne dote però mi è stato dato questa occasione di farlo avevo fatto un provino stavo in fissa volevo diventare una radio host fighissimo c'è sempre tempo per farlo ah sì allora guarda un giorno manderò il mio curriculum così mi prendete comunque a parte gli scherzi sì ho presentato due programmi uno era la chart in inglese tutta lingua inglese dici poco sì era figo chart hip hop e l'altra era in italiano ecco conducevo non ero bravissima però ma non è vero perché sei qui a chiacchierare poi è questo la radio è divertente si chiacchia a me piace si 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 parla insieme si ascolta musica senti dopo dove andrai invece adesso dico tra poco allora sì sì alle 17 sarò al centro commerciale a Bologna bellissima Bologna sì il centro commerciale si chiama Borgo il centro commerciale Borgo scusate mi ho avuto un attimo un piccolo lapsus sì alle 17 io aspetto tutti quanti speriamo che ci siano i centri commerciali sono le nuove arene contemporanee perché c'è la possibilità di incontrare le persone c'è molto calore è bello perché tanti artisti lo fanno sì sai che c'è è che appunto proprio perché il mio pubblico dicevamo che è molto trasversale il centro commerciale raduna proprio tutti sono le nuove piazze una volta ci si trovava in piazza è vero è vero la trovi tutti proprio tutti tutti mentre nel negozietto sai c'è chi ha problemi a trovare parcheggio comunque magari i negozietti sono un po' strani per i piccolini il centro commerciale è che c'è il parcheggio grande esatto è comodo fai un po' di shopping prendi un espresso sì 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 vuol dire noi ti ringraziamo ma ti aspettiamo prestissimo grazie ma no no grazie a voi per avermi ospitato è stato bellissimo molto divertente e ricordiamo il 28 marzo a Milano e il 29 marzo a Roma per vedere Baby K dal vivo esatto un bacio un bacio a voi grazie mille ciao a tutti grazie mille grazie mille